ciao amici ciani bravo è tornato ciani bravo is back allora oggi devo dare una risposta al signor enrico silvestrin purtroppo questa risposta la do con un certo ritardo perché purtroppo soltanto ieri sera mi sono accorto che in un mio video di qualche mese fa questo signore signore tra virgolette aveva scritto un commento molto lungo molto aggressivo addirittura questo commento lo ha postato dieci volte per cercare aveva invaso praticamente il video di un suo commento di questo commento che peraltro messo in evidenza e di questo video metterò il link per chi volesse documentarsi e voglio dire questo questo signor enrico silvestrin al quale darò la risposta voglio dire una cosa questo signore proprio in quel video a suo tempo scrisse un suo primo commento carico di insulti e di minacce addirittura diceva che voleva un mio indirizzo perché sarebbe venuto da me per picchiarmi faccio una premessa premesso che lui cancellò questo commento che io peraltro ho salvato con uno screenshot e che terrò così come reliquia e voglio dire questo l'arroganza di certi personaggi pseudo critici è insopportabile io vi mostro quello che fu il diciamo la copertina di quel mio vecchio video di qualche mese fa che rispondeva alle tante critiche rivolte da varie testate fonti eccetera faccio una premessa questo signor silvestrin nei miei video non è mai stato nominato se si è riconosciuto all'interno delle mie chiamiamo le critiche osservazioni è un suo serio problema ma veniamo al punto lui infatti tra i tanti feroci critici fece a suo tempo questo video diciamo questa recensione sui maneskin che per quanti volessero andatevelo a guardare ma io non mi riferivo solo chiaramente a questo signore mi riferivo in generale certamente puntai l'attenzione anche su quelle che lui noto iper critico dei maneskin aveva postato e quindi io tra le mie critiche probabilmente facevo riferimento anche a lui ma peraltro mai nominato nei miei video non è così importante il personaggio ma le mie risposte a lui poi le darò specifici nello specifico e quindi caro enrico silvestrin non so se ho già detto che metterò il link del mio video in maniera che possiate andare a leggere il suo fantastico commento peraltro ribadisco postato dieci volte io le ne ho cancellate perché mi sembrava eccessiva la sua presenza ho messo solo in evidenza il commento con una mia piccola risposta educata se vogliamo caro silvestrin l'arte antica del dividere per imperare no è antica la critica quella in generale feroce per fare e creare comunque spaccature e consenso anche se è antica a radici antichissime tu addirittura mi scrivi accusandomi di sfruttare per ottenere visibilità la tua figura insomma mi viene un po da ridere ti sei riconosciuto nelle mie critiche è un tuo problema evidentemente il dilemma è lampante tu che per attirare attenzione ti diverti a denigrare artisti anche di fama mondiale critici rinomati l'unico intento è fare scalpore e ottenere visualizzazioni sparlando senza reali argomentazioni importanti e mi accusi di strumentare di strumentalizzare la tua figura mi viene da ridere tu che saltelli da un post all'altro a un podcast all'altro e quando i post che sono minimamente seri difficilmente ti trovano totalmente in accordo con i tuoi giudizi carichi di pregiudizi la tua cultura scarsa e eloquente tu ti senti parte di una grande elite ti atteggia educatore di masse ignoranti ma voglio dire di figure e di falsi predicatori e siamo pieni tu di fronte a critiche garbate che puntano a rispetto per artisti per la musica replichi a me nel tuo commento che non sono nessuno che sono un vecchio un brutto vecchio malconcio con un ridicolo cappello che si deve rintanare nelle fogne e chiedere l'elemosina caro Silvestrin hai sfoderato il tuo modestissimo curriculum e hai aggiunto che non verrò mai chiamato nel grande fratello VIP come se io in quella assurda gabbia grottesca che non ci andrei nemmeno per tutto l'oro del mondo perché il tuo livello è proprio quello lì allora ti do un consiglio svestiti di abiti che non ti appartengono rifletti su te stesso evita attacchi verbali beceri perché tu probabilmente senza un tacquino da punti sei poca cosa sei di da scalico pedante cultura scarsa molto scarsa carico di sottocultura quella che può addomesticare gli ignoranti leggi documentati da fonti autorevoli e forse fra qualche decennio sarai in grado di sostenere una conversazione vera degna se non sei e ho notato che in tutti i tuoi video perché ho fatto una piccola ricerca dopo queste tue aggressioni ho notato che hai tolto i commenti perché certo il tuo atteggiamento probabilmente ha modificato se non sai controllare il tuo narcisismo il tuo egocentrismo la tua presunzione la tua arroganza forse qualche piccolo aiuto può servire enjoy life enjoy music and be happy ciao 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 ciao